Il bonus 200 euro spetta anche ai collaboratori domestici, colfe e badanti compresi. Si tratta di una novità contenuta nel decreto aiuti. Requisiti essenziali a essere regolarmente assunti dal datore di lavoro e avere un reddito all'anno entro i 35.000 euro. Per i collaboratori domestici si dovrebbe far riferimento al 2022. Il bonus 200 euro verrà pagato in busta paga e anticipato dal datore di lavoro. Quest'ultimo potrà recuperare la somma che dovrebbe essere erogata a luglio nel primo pagamento delle imposte utile.